Allora, il messaggio che io do a tutti, non posso dire alle persone non abbiate paura, perché la paura è un sentimento irrazionale e ognuno di noi, anche chi conosce bene questi fenomeni, se un po' di paura ce l'ha sempre, quindi la paura è fisiologica. Però quello che dico ai napoletani, c'è grande controllo, grande attenzione, mai questo territorio sia dal punto di vista geofisico che dal punto di vista strutturale è stato controllato come adesso, quindi tutto è migliorabile, però mai è stato fatto quello che è stato fatto fino adesso, quindi cerchiamo di vivere il più normalmente possibile, noi sicuramente c'è la massima attenzione da parte di tutti noi, di tutte le strutture, di tutte le istituzioni e noi sicuramente avremo cura della sicurezza dei napoletani e di tutti i cittadini, perché quella è la nostra responsabilità, da amministratori ma anche da conoscitori di questo fenomeno, quindi sappiamo bene che bisogna avere cura. Quello che dico ai cittadini, abbiate sicuramente paura, perché non vi posso dire di avere paura, ma non fate prendervi dal panico, informatevi, gestite questa situazione nel modo migliore possibile, perché chiaramente c'è la sensibilità di ognuno. Fino a che magnitudo il terremoto rientra nel range della normalità del bravisito? L'abbiamo detto, c'è una soglia, 4 e 4 è una scossa tra le più importanti di quella che può avvenire, ma al di sopra, quello che dicono gli studiosi che sopra 5 non è possibile che ci sia una scossa, almeno questo è quello che ci dicono poi chiaramente. È stato detto nell'assemblea Bagnoli. Anche nell'assemblea Bagnoli è stato ribadito da Francesca Bianco che è la direttrice di tutta la sezione vulcanica dell'NGV, dal direttore dell'osservatorio Vesuviano, vi potrei spiegare anche perché, però non è il caso.